che sono bolognese ormai lo sapete anche perché si sente però nelle mie vene scorre sangue trentino e ogni tanto mi piace proporre delle ricette di una regione che si difende benissimo in cucina guardatemi qui questi sono gli spezzi nella mia versione super cremosa per i nostri spezzel o gnocchetti latirolesi abbiamo bisogno di 250 g di farina doppio zero 2 uova 200 g di spinaci lessati e strisati un po' di latte per il condimento mezza cipolla bionda tritata 250 g di speccali starelle 300 ml di panna un po' di vino bianco fermo noce moscata 50 g di parmigiano e qualche griglio di noce gli spezzi non sono nient'altro che gli gnocchettini verdi fatti con gli spinaci e noi partiamo da questo mettiamo la farina dentro una terrina capiente insaporiamo con del sale e del pepe nero grattugiato abbiamo una piccola rimestatina due uova grandi e un pochino di latte che va aggiunto poco per volta frustiamo aggiungiamo gli spinaci il nostro impasto deve avere questa consistenza come vedete un pochino collosa non troppo dura non troppo morbida per passare in uno schiacciapatate lasciamo riposare l'impasto dei spezzel per una mezzettina circa ora ci dedichiamo al condimento iniziamo con un bel giro d'olio nella padella calda e aggiungiamo la cipolla stagliostata ci manteniamo trentini anche nel condimento o questo non mangia mia mamma aggiungiamo spe a listarelle facciamolo rosolare pian pianino sfumata di vino bianco lasciamo evaporare ora tocca alla panna giù anche questa qualche chicchino di sale grosso non tanto perché il speck è bello sapido e saporito e una grattatina di noce moscata e ora lo facciamo covare andare pian pianino per circa 15-20 minuti deve essere una bella crema è arrivato il momento di fare i nostri spezzel abbiamo bisogno di questo simpatico aggeggino coi buchi se non l'aveste a casa poteste utilizzare anche un schiacciapatate dai fori larghi grossi mettiamo un bel giro di olio nell'acqua bollente che così eviterà che i gnocchettini si attacchino posizioniamo l'attrezzo sopra la pentola e gli mettiamo dentro un bel mescolone del nostro impasto e ora tiriamo ogni tanto diamo una mescolatina aiuterà a staccarli meglio questi spezzeli sono come gnocchi di patate quando arrivano a galla sono pronti e via che li scoliamo nel condimento li facciamo ben mantecare una bella girata di parmigiano mo che profumino e ora li impiattiamo velocemente perché vanno mangiati belli fumanti un bel piattone ricco e abbondante con su per concludere qualche griglio di noce proprio così strittustato alla vecchia un giro di formaggio e si vedono i miei geni trentini oh ma tarlini per questi spezzeli non c'è mica bisogno di tante parole solo da assaggiare mmm sopra che buoni si solgono in bocca questo piatto è adatto per scaldare qualsiasi inverno ciao 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 ciao